L'OCCA 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 Vi ho radunati qui perché giuriate fedeltà a mia figlia. Vi siete messo tra me e mio padre. Io non ho nessuna pretesa sul trono. Il re sta morendo, eccellenza. Asseconderete gli interessi della chiesa. Non sono indulgente con i preti che rubano. Neanche Dio è indulgente con i vescovi che mentono. E' un assassino! Ha quasi ucciso mia figlia! No! Hai ucciso mia madre! E' stregato mio padre! Ma le tue magie non funzionano con me! Il re è morto. Ci stanno attaccando! No! Voglio la testa di suo figlio sul vassoio d'argento. Devo salvare la reliquia! Pregerete l'inferno per questo! Sarete tornati in eterno! Rispondimi come ti è venuto in mente! Rispondimi поэтому non Interesting sound Vi colate il canale! Ahhhhhhhh!! AN autour dell' estánso. Timi ti è venuto in mente. I APROISI Prima di un soggetto. Grazie a tutti